A pochi giorni dalla visita a Pescara del Presidente Nazionale Giorgia Meloni, oggi Fratelli d'Italia scende in campo anche in Abruzzo, anche in provincia di Pescara per dire no all'Ujus Soli. Scende in campo, scende nelle piazze più importanti della provincia di Pescara e non solo di tutto Abruzzo ma di tutta Italia per dire un no convinto all'Ujus Soli. Noi riteniamo che questa materia importante, che non è sicuramente di interesse nei confronti dei cittadini italiani, sia una materia utilizzata al centro-sinistra per cercare di unire tutti i pezzi della sinistra, quindi in maniera ideologica, per cercare di essere competitivi alle prossime elezioni. Noi diciamo no in maniera convinta perché riteniamo che la cittadinanza italiana deve essere meritata, deve avere un processo più lungo e fino a quando uno non dimostrerà di amare la Costituzione, di amare le nostre tradizioni, la nostra storia, la nostra cultura, la nostra religione, non potrà in maniera automatica diventare cittadino italiano. C'è però una parte del centro-destra che non è completamente in disaccordo con questa legge? Io parlo per Fratelli d'Italia, noi siamo nettamente contrari e pronti anche a scatenare, a proporre un referendum contro questa legge, se dovesse passare. Ci saranno dei punti per raccogliere le firme a Pescara e Montesilvano in particolare? A Pescara domani e domenica dalle 16 alle 20 in Corso Umberto, Portici ex Cinema San Marco, a Montesilvano dalle 10 alle 13 in piazza di Iazza davanti al Comune.